salve a tutti sono un allevatore italiano ci troviamo in sicilia in provincia di ragusa e presento la mia azienda con circa 50 vacche con una produzione media giornaliera di 30 kg di latte con il 4 per cento di grasso e 3 7 di proteine gli animali da novembre a maggio usufruiscono del pascolo il beneficio di questa razza è che nonostante il gran caldo non abbassano la produzione troviamo qua nella parte più estrema d'italia e le temperature che erano sempre i 40 gradi in alcuni periodi dell'anno questa è la mia vacca preferita ha già ben 6 parti e ancora al sesto mese di gravidanza vanta dei suoi 40 kg di latte giornaliera